Capitale dell'aerospazio non è uno slogan ma in questi giorni una vera e propria realtà partito stamane il cantiere del polo di formazione specializzazioni produttive nel settore poi nel pomeriggio l'incontro internazionale tra i protagonisti di questo business in espansione con cifre da capogiro per il Piemonte la scelta di puntare sull'aerospazio per riconvertire aziende e creare nuovi posti di lavoro Caterina Cannava L'annuncio dal ministro dell'economia Giorgetti completato l'iter per l'avvio della fondazione dedicata all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai settori dell'automotive e dell'aerospazio con sede a Torino Il Piemonte costruisce il suo futuro investendo su innovazione e ricerca coinvolge istituzioni, università e politecnico, imprese pubbliche e private In mattinata il primo passo verso la città dell'aerospazio si parte con i laboratori del Politecnico progetto da 42 milioni di euro tra Corso Francia e Corso Marche Nel pomeriggio l'apertura dell'incontro della comunità dell'industria aerospaziale mondiale confronti e compravenditi dai numeri stratosferici Stiamo parlando di un giro d'affari di oltre 350 miliardi di dollari che in questi tre giorni passerà dal Piemonte Soltanto l'ultimo giorno sullo spazio il seminario della Lunar Economy rappresenta di fatto 60 miliardi di dollari Aerospaziale, un comparto che solo in Piemonte conta 35 mila occupati su 450 aziende che generano un fatturato di 8 miliardi di euro con prospettive di espansione esponenziale 280 buyer all'ingotto dove si svolgeranno più di 8 mila B2B tra aziende e fornitori e clienti e fornitori Questa è una grande vetrina internazionale che si sposa benissimo col progetto dell'aerospazio per essere un grande polo di attrazioni e di investimenti Occupazione e posti di lavoro perché l'industria aerospaziale in Piemonte negli ultimi due anni è cresciuta da 20 mila a 35 mila occupati e il volume d'affari è cresciuto di un miliardo di euro vuol dire che davvero l'industria aerospaziale è preziosa per il Piemonte e soprattutto per i lavoratori piemontesi All'Oval 400 espositori da 30 paesi compresa la NASA a confronto fino al 30 novembre Grazie a tutti